Dopo tante trattative tra l'est Europa e i paesi del nord, Pantaleo Corvino piazza finalmente un colpo tricolore e porta alla corte di Eugenio Corini il difensore centrale Fabio Pisacane, che nelle ultime cinque stagioni è stato assoluto protagonista, con la maglia del Cagliari tra Serie A e Serie B. Con l'arrivo del centrale partenopeo, il Lecce fa il pieno d'esperienza in difesa, mentre in mezzo al campo continua a preoccupare l'arrivo di presunti sconosciuti, noti solamente a Corvino e il suo staff. Intanto la squadra si è ritrovata alla Kayak Golf Club per una seduta d'allenamento. L'allenatore ha cominciato a istruire i suoi in vista dell'impegno di domenica pomeriggio alla Via del Mare contro l'Empoli, che nel corso dell'ultimo turno ha schiantato la Salernitana con un secco 5-0. Il danese Morten Hulmand ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni, dall'altra parte hanno seguito un programma personalizzato, Felici, Rodriguez, Pettinari, Paganini, Lofaso e Calderoni. Mentre non ci sono buone notizie per Castriot e Dermacum, i controlli a cui si è sottoposto il difensore albanese hanno evidenziato un edema muscolare ed interfasciale al terzo distale del bicipite femorale della coscia destra. Nel corso della giornata odierna la squadra sosterrà un allenamento nel pomeriggio, seduta alla quale dovrebbe partecipare anche l'ultimo arrivato, Fabio Pisacane. Grazie. 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 Grazie.